Hola Iroh, bentornato in questo canale e benvenuto in questo nuovo video. In questo video continuiamo a parlare di trading, o meglio entriamo un po' più nello specifico di quello che è il trading e del perché fare trading. Perché arrivati ad un certo momento effettivamente della propria carriera da investitori diventa essenziale, diventa importante inserire un asset finanziario come quello del trading effettivamente all'interno del proprio paniere di investimento. Tra l'altro questo è un po' un video che continua una minisaga precedente perché se ancora non l'hai visto precedentemente, una, due, tre settimane fa, ora non lo so, ho registrato effettivamente un video su come sono partito io a fare trading, come è iniziata la mia disavventura perché è partita male a tutti gli effetti da traders per poi diventare una persona, un investitore che è riuscito a mettere questo asset all'interno di un paniere un po' più ampio. Bene, se non l'ho ancora visto ti lascio qui a qualche parte, qui sopra, in descrizione, comunque il link per andare a rivedere il primo video. Se invece l'hai visto, bene, allora vai tranquillo, continua pure questo video. E già che ci sei, se non ti sei ancora iscritto nella community, iscriviti alla community degli investitori, entra nel nostro quartier generale. Dato questo, iniziamo subito. Cinque ragioni, cinque motivazioni del perché è importante, almeno arrivati ad un certo livello della propria carriera da investitore, introdurre il trading nei propri investimenti. Prima però, una premessa. Che cosa intendo io con trading? Cosa intendo io con trading finanziario? Perché molti quando si sente la parola trading pensano immediatamente al forex, quindi a, ok, fai trading, a, ok, fai forex, quindi speculazione molto magari veloce sulle valute, compro un dollaro oggi, fra due minuti lo vendo, lo ricompro, quello è scalping, quello non è trading, è una branchia del trading, ma non è il trading in generale. Per me il trading finanziario è quello strumento, è quella abilità, è effettivamente quell'asset che permette di compravendere degli strumenti finanziari in un lasso di tempo definito che ci aiuta effettivamente a produrre, a far fruttare il nostro denaro e a produrne di più sostanzialmente, a prescindere da quale strumento si decida di utilizzare per il proprio trading. C'è chi fa trading in azioni, c'è chi fa trading in criptovalute, c'è chi fa trading per esempio in ETF, c'è chi fa trading per esempio in valute, cioè ci sono tante tipologie di trading e tutte queste hanno assolutamente un senso, l'importante è trovare quella che fa più per noi nel giusto momento della nostra vita. Te l'ho già parlato nel video precedente, però questo è per fare una premessa, io non intendo il trading come lo scalping come pensano molti, perché se uno mi chiede ma lo scalping è valido per tutti gli investitori, cioè tutti gli investitori devono fare quel trading forex lì che compro e vendo con... No, assolutamente no, è giusto che ogni investitore comprenda quanto tempo a disposizione, quanto appassionato della materia per inserire effettivamente il trading all'interno del proprio portafoglio e perché è importante? Per 5 ragioni. Uno, perché il trading è sicuramente tra gli asset di investimento, anzi probabilmente è l'asset da investimento per antonomasia più scalabile in assoluto. Cosa vuol dire scalabile? Che a prescindere da quanti capitali potrei mettere su un singolo investimento, su una singola azione, su una singola operazione, su una singola speculazione, il risultato tendenzialmente non cambia, perché è un mercato estremamente liquido e prima che il nostro operato possa influenzare il mercato, vuol dire che dobbiamo arrivare a mettere diversi miliardi su ogni operazione, non credo che farà mai il caso nostro. E perché è scalabile più di altri asset? Ma basta pensare magari a un confronto con l'investimento immobiliare. Per scalare l'investimento immobiliare quello che io devo fare è, se volevo investire 100.000 euro su una singola operazione e poi investirne da 100 o un milione, probabilmente o fare operazioni più grosse e questo mi comporta una squadra più importante, una gestione più articolata, un'operazione più complessa a tutti gli effetti, oppure devo fare più operazioni, quindi 10 operazioni da 100.000 euro. Così posso scalare da 100.000 euro a un milione l'immobiliare. Col trading non è così, mi basta invece che aprire un contratto magari, aprirne 10, aprirne 100. Quindi utilizzando lo stesso tempo, la stessa tecnica, la stessa fatica, io sto scalando un determinato investimento e questo è scalabile quasi all'infinito per noi piccoli traders retail, perché possiamo arrivare veramente a fare investimenti milionari con la stessa fatica, con lo stesso tempo impiegato di quando investiamo magari poche migliaia di euro. Questo è assolutamente possibile con il trading. Punto numero 2, il trading è una tipologia di investimento assolutamente versatile, perché mi permette, versatile e liquida, perché mi permette di farlo in qualunque parte del mondo potenzialmente, mi basta avere uno smartphone, mi basta avere un pc, mi permette di essere fatto in diversi momenti della giornata, in diverse scaglioni temporali, perché se io conosco magari più strategie di trading, ho la possibilità effettivamente di adattare, che è quello che piace a me, quello che io consiglio a tutti gli investitori, il trading alla mia vita, quindi magari ci sono dei momenti di vita in cui sono libero e conosco più strategie, bene, magari posso fare trading 2, 3, 4 ore al giorno, posso stare più tempo davanti ai grafici e quindi potenzialmente avere un profitto potenzialmente maggiore. Oppure magari ci sono dei momenti della nostra vita in cui non abbiamo tempo, perché siamo impegnati su altre operazioni, altri investimenti, bene, se conosciamo più strategie, il trading mi permette di operare pochi minuti al giorno, operare pochi minuti alla settimana, in base a quanto tempo voglio effettivamente dedicare a questo tipo di investimento, mentre altri investimenti questo non me lo permettono. Se io devo fare un'operazione immobiliare, torno ancora all'esempio di prima, è il tempo che devo dedicare all'operazione, è quello assolutamente, altrimenti l'operazione potenzialmente non va avanti, con il trading questo non accade, con l'immobiliare devo essere presente, devo essere sul territorio, devo andare a parlare col team, se lo faccio in prima persona per avere il controllo ovviamente, col trading questo non accade, quindi è un argomento molto versatile. Punto numero 3, il trading c'è sempre, c'è sempre sia perché una volta acquisita questa competenza, rientra nel nostro bagaglio, nelle nostre skills culturali e quindi posso utilizzarlo più volte nel corso della mia vita. A me è capitato per esempio di fare trading in momenti in cui avevo tanto tempo e quindi lo facevo quasi full time, e in altri momenti mi è capitato di fare, ci sono stati degli anni in cui magari ho fatto poca operazione, 15-20 operazioni in un anno. Il trading si adatta, lo abbiamo visto prima, ma poi c'è sempre, vuol dire che nel corso della nostra vita, quando ne necessitiamo, se abbiamo appreso questa skills, possiamo ritirarla fuori per crearci magari un'entrata aggiuntiva o andare ad investire un capitale in eccesso che ci è arrivato in un determinato momento. Assolutamente questo è possibile. Altresì, il trading c'è sempre a seconda della condizione di mercato, nel senso che abbiamo visto poco fa, abbiamo visto proprio, stiamo vivendo in questo momento una situazione molto particolare per via del coronavirus e quant'altro. Ebbene, alcuni strumenti in questo momento storico non sono attuabili. Per esempio l'immobiliare si è un po' fermato, altri investimenti di natura più fisica, pensiamo ad alcuni investimenti in aziende fisiche, non hanno prodotto, anzi hanno portato delle perdite, perché c'è stato proprio un blocco condizionato dall'esterno. Ebbene, il trading in tutto questo è andato avanti. La possibilità di fare trading c'è sempre stata e anzi, in momenti storici così particolari, il trading può essere interessante e un'opportunità, perché la volatilità, seppur può aumentare i rischi, attraverso strategie precise, ci permette di velocizzare anche i guadagni. Quindi il trading in qualsiasi momento storico permette effettivamente di ottenere, con le giuste strategie, dei risultati. Punto numero 4, il trading è essenziale e importante all'interno di un portafoglio diversificato proprio per diversificare altri asset. Infatti fare trading, speculativo, a prescindere da quanto tempo si decide di dedicare a questa attività, ci permette di dare magari un boost a un portafoglio che altrimenti sarebbe un pochettino meno dinamico, magari solo un portafoglio immobiliare, magari solo un portafoglio obbligazionario, di cedole e quant'altro. Bene, con il trading io posso andare un po' un'accelerazione e dall'altra parte bilanciare un portafoglio che magari sta avendo anche delle difficoltà. Quindi è molto importante come strumento anche di diversificazione, perché il trading potremmo quasi considerarlo, una volta che si acquisisce la competenza per farlo bene, uno strumento anticiclico che ci permette di produrre liquidità anche quando altri asset sono un po' in difficoltà. Quindi è importante per diversificare. Quinto e ultimo punto, magari un po' particolare, per il mindset, a me il trading mi ha dato tanto nella mia vita, mi ha dato sicuramente la capacità di sviluppare dei redditi, mi ha dato sicuramente la capacità in alcuni momenti in cui ero un po' più in difficoltà di arrotondare, in altri di fare crescere effettivamente il mio portafoglio finanziario, ma una cosa in più che mi ha dato, che magari qualcuno potrebbe dire, addirittura no, non ci credo, non può essere, è un migliore mindset, mi ha aiutato a pensare meglio, ad essere una persona migliore. Perché quando inizia a fare trading, quando vuoi passare dal fare trading a livello amatoriale, a trading a livello professionale, ossia persona che riesce a guadagnare dei mercati speculando, bene, devi diventare una persona in grado di gestire le emotività, di gestire le emozioni e di fare scelte razionali. Questo è essenziale per passare a fare trading in maniera profittevole. E io ho dovuto apprenderlo, e una volta preso per il trading, quello che è successo è che anche le mie scelte in altri campi sono diventate prese con più coscienza, prese con meno leggerezza. Il trading mi ha aiutato a decidere meglio, in generale, nella mia vita, ed avere anche un po' più un controllo emozionale. Io ero molto emotivo, facendo trading sono diventato molto più analitico. Questo mi ha aiutato a 360 gradi nella vita di ogni giorno. Bene, questo allora è un po' la panoramica, i 5 motivazioni del perché, secondo me, un investitore deve assolutamente considerare il trading all'interno del proprio portafoglio di investimento, fammi sapere magari tu cosa ne pensi, se ce l'hai già, se stai pensando di approfondirlo, di studiarlo, o se proprio l'hai scartato. E in quel caso, dimmi perché. Quindi ci vediamo al prossimo video, e se ancora non sei iscritto alla community degli investitori, qua sotto trovi il link per accedere, e venire a trovarci all'interno del nostro canale, dove altri investitori come te, ogni giorno si confrontano, per andare a portare avanti alcuni discorsi, ed entrare anche un po' più nello specifico di alcuni argomenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!